buongiorno a tutti benvenuti sul canale dedicato alla fotografia in grande formato e ultra grande formato sono marco narratone il tema della puntata di oggi è con cosa andiamo in giro per fare le nostre fotografie in grande formato oltre grande formato quando andiamo in montagna campagna eccetera e vi presenterò quello con cui vado io in giro a mo di esempio però a qualche considerazione riusciremo a trarla un pochino magari di ordine generale soprattutto perché non ci focalizzeremo assolutamente su risoluzione cam cerchi di copertura eccetera ma ci focalizzeremo su chili quindi l'argomento di questa puntata è l'attrezzatura che ci portiamo in giro e quanto pesa ciao a tutti alla prossima cominciamo chiaramente dalla macchina la macchina la philips la 8x10 che avete già incontrato in una puntata precedente questa macchina è attaccata alla testa tramite questa piastra questa piastra due viti e una coda di rondine arca suisse dall'altra parte questa coda di rondine si attacca alla testa questa testa il vecchio testa lino che ho comprato senza il suo la sua piastra d'attacco quindi aveva una soluzione che lino proponeva che aveva quindi solo una vite maschio che veniva fuori dalla sfera a questa su questa vita maschio o attaccato una pia o avvitato una piastra arca suisse rrs la riri right staff perché volevo appunto il formato arca suisse e questa piastra rrs l'ho poi incollata alla vite tramite dell'octite questo oggetto qua che vedete questo loctite cosa succede succede che in pratica rende il contatto l'avvitamento permanente come se fosse saldato in altre parole l'ho fatto una decina d'anni fa funziona benissimo non c'è nessun problema il mio cavalletto è un vecchiotto ghizzo in carbonio con una colonna centrale abbastanza corta però presente che io trovo utile è un gancio attaccato in fondo alla colonna centrale a cui si può attaccare la solita reticella che uno in montagna riempi di sassi se necessario se c'è del vento per esempio per stabilizzare un po il cavalletto porta pellicole allora io vado in giro con tre porta pellicole quindi per un totale di sei negativi che tengo dentro a questa borsa molto molto ingegnosa che mi piace molto è una borsa come vedete un po si apre fisarmonica se volete fatta da un artigiano americano l'ho comprata tanti tanti anni fa quando vivevo la difatti ne ho due perché un bellissimo prodotto ecco tengo come potete vedere tengo i porta pellicole dentro delle buste quelle che si adottano per i circuiti stampati no chiamiamo le buste elettrostatiche se vogliamo che tengono la polvere via funziona molto bene una soluzione mi piace ve la consiglio anche per il 4x5 per qualunque altro formato questi sono dei porta pellicole fidelity senza banalissimi senza nessuna pretesa poi il panno scuro cosiddetto argento fuori molto sporco perché ne ha visti tutti i colori e nero dentro il cavetto di scatto e un e un gos e un vecchio gos e con un aggiuntivo di diciamo pseudo tele mi trovo molto bene lo conosco solo capisco i suoi comportamenti quindi è un unione di vecchissima che continua ad andare molto bene un po rabberciato come potete vedere un lupe casereccio leggerissimo fatto con dello scotch nero e dello spago anche questo però funziona benissimo e obiettivi allora io ho difficoltà faccio un po fatica ad adoperare il 300 millimetri tra virgolette il normale che poi normale non è questo sarà un discorso che magari riprenderemo un'altra volta su quelle su quella che è la percezione della focale nel grande formato e nell'ultra grande formato comunque diverrà divagavo 300 mm non mi trovo bene per cui mi piace andare in giro con una focale un po più stretta questo 450 mm nico rem e una focale decisamente più larga un bel grande angolare cioè un 150 mm e io vado in giro con questo supersimmar xl tutti e due gli obiettivi il 450 e 150 sono montati su piastre linoff master tecnica tecnica la sinar accetta la sinar la philips accetta piastre sinar e quindi ho bisogno di un adattatore eccolo qui l'adattatore master tecnica sinar filtri filtri un discorso complicato complicato perché allora il 150 mm ha un diametro micidiale 92 mm io ho questo filtro nikon rosso di 92 mm è l'unico filtro innanzitutto a vite circolare che io ed è due anche l'unico filtro che io possa adattare che ho che possa adattare al 150 mm se no per il resto dopo una batteria di filtri 100 per 100 li eccoli qua quindi ad opero dei filtri li graduati soft tre filtri li graduati hard e poi arancione rosso giallo e verde questi cinque questi 100 per cento quadrati quindi filtri li li posso mettere sul 450 mm che ha un diametro di 67 mm tramite questa anello adattatore a cui poi attacco questi portafiltri li poco al plurale perché questo è un portafiltri a due slot e questo il portafiltri a tre slot tenete conto che uno slot lo si perde sempre se uno vuole adoperare il paraluce e io ad opero sul 450 mm il paraluce per quanto riguarda invece il 150 mm questo è il mio portafiltri nel senso che io ho questa carta adesiva con delle belle forbicine che mi serve per letteralmente attaccare i filtri quadrati al super sim mar 150 mm non inorriditevi funziona ci vuole un attimo di pazienza soprattutto perché non è istantaneo spostare il filtro graduato e farlo scendere per quello che deve essere fatto scendere però funziona l'alternativa l'unica alternativa sarebbe quella di rivolgersi al sistema lì 150 per 150 che è molto costoso ancora più costoso del 100 per cento nel mio caso io fotografo come avrei dovuto forse dirvelo all'inizio ma il fotografo solo in bianco e nero fuori quindi non ho problemi di polarizzatori per esempio cose di questa sofisticazione per cui io sono contento con la mia carta adesiva e le mie forbicine la cosa funziona il paraluce l'ho nominato prima eccolo qua paraluce che io religiosamente adopero sempre sul 450 mm che è e che è totalmente inutilizzabile sul 150 per ovvi motivi no e quindi 150 lo adopero senza paraluce ed è ovviamente devo stare attento a raggi di sole che possono fare brutti scherzi eccetera eccetera un po una pompetta giotto 80 88 grammi per pulire le lenti e basta e quindi possiamo fare il totalone il totalone sono 12 kg 12 kg in cui è interessante però fa un attimo una specie di breakdown in cui si possono vedere le componenti relative no dei vari oggetti 33 per cento 32 per cento è la macchina fotografica ci sta non sorprende 11 per cento sono i due obiettivi anche questo non sorprende 13 per cento il cavalletto 19 per cento i portafilm questo a me sinceramente ha sorpreso non mi aspettavo che i portafilm pesassero parecchio di più del mio cavalletto ok se vogliamo pesassero un po di più del cavalletto più testa sono dei portafilm normali nel senso che sono dei fidelity il disco non è che pesino di meno anzi ci sono soluzioni che potrebbero 8 per 10 che potrebbero anche pesare di più ecco questo mi ha un attimo sorpreso prima di fare questo esercizio non avrei mai detto che i tre porta film pesassero più di testa e cavalletto poi a pensarci sicuramente uno razionalizza di già già è vero però ecco questa per me è stata una sorpresa una lezione che ho imparato a questo bisogna aggiungere tutto il resto tutto il resto vuol dire il sacco e poi tutto quello che uno si porta in giro in montagna cosa molto personale chiaramente dipende molto dal tempo dalla stagione dal momento in cui uno va a fare la scalata o la gita però come minimo francamente bisogna parlare di almeno 45 kg di più e quindi se non arriviamo a 20 kg sfioriamo i 20 kg rim potremmo rimanere sui 17 18 8 per 10 4 per 5 le cose cambiano chiaramente non te non dimenticatevi però che c'è questo zoccolo duro dato da il litro d'acqua il litro d'acqua il golfo il giaccavento rimangono il sacco è quello che è quindi non è che il 10 per cento che uno può guadagnare comprando una macchina 4 per 5 ultra leggera in materiali sofisticatissimi non è più il 10 per cento se uno lo fa sul tuo talone completo no anche questa è una cosa da tenere secondo me a mente ulf ulf la mia macchina pesa più di tutto il tuo talone cioè pesa 12 chili e mezzo quindi sinceramente parlando parliamo di 30 kg se uno ci mette dentro tutto il litro d'acqua e tutto il resto quindi se uno non è veramente in forma smagliante e palestrato muscolarmente super si parla di due persone che possono andare in giro anche due persone messe bene insomma che possono andare in giro con questo genere di pesi no ecco io chiudiamo qua io questa è una è la mia situazione super personale non ci si può tirare fuori nessuna considerazione generale perché appunto così è come vado in giro io fate un po i vostri conti vedete un po quello quello con cui voi andate in giro magari rimarrete sorpresi dalla con dal contributo relativo di alcuni degli oggetti che vi portate per per strada e magari facendo questo esercizio trovate il modo di risparmiare un chilo fosse anche solo un chilo come tutti quelli che vanno in montagna sanno benissimo un chilo e tanto da portarsi su quindi è un bel risparmio ok spero che la cosa l'esercizio vi sia stato sia stato di vostro interesse ci vediamo una prossima volta ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti